... Finalmente, siete in ritardo di esattamente 22 minuti e 18 secondi. Ehm, questo era un villaggio turistico, ma è stato abbandonato. Ehm, il motivo non lo so. Ma il nostro bungalow non è ridotto così, vero? No, 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 no. Il nostro è da un'altra parte. È questo? Sì. Ma io lì dentro non ci dormo. È una topaia. Andiamo direttamente a Grotta Marea. E' una volta che passavamo di lì, ci spaventavamo tantissimo e scappavamo. C'è qualcuno lì sotto. E' un'altra parte. Parraggio! Mai lasciare organizzare Mattia!